Vieni qua, vieni qua, vieni qua, non ti girare di mortacci tua, ha tirato il tempo, è finito il tempo E ciao belli e benvenuti da Edwensi, ricordatevi il click mi piace mentre lo iscrivetevi Per voi semplicemente un click, però è un grandissimo segno di risoluzione Eccoli i miei ragazzoni, da quant'è che non lo aggavo su Terra, veramente un botto Vi devo parlare, tra l'altro non ho pure metto il cap, adesso al 70 dovrei expare i pg Beh, entriamo con l'arcere Molti di voi mi hanno chiesto di portare Terra, di continuare a portare Terra Ma molti di voi non mi hanno neanche risposto quando ho chiesto Beh, sì, io ho portato le guide principali di Terra, che cosa vorreste che io portassi ancora dei Terra? E nessuno mi ha saputo rispondere, certi mi hanno detto, beh, parlo un po' degli aggiornamenti Dico di là, ok ragazzi, io sì, potrei pure farlo, ma ho un paio di idee che forse potrebbero interessarvi di più E ve le dico, mentre mi faccio magari qualche quest, magari qualche Guardian Ho delle idee, dicevo, e le idee per portarvi qualche contenuto Dato che comunque di contenuto Terra ne ho già trattato abbastanza per quanto riguarda le guide a livello di guida Posso però fare qualcosa più a livello di gameplay e non di guida Se qualcuno mi piace, interessa, guarda le Terra Posso pur farlo, nel senso, adesso mi faccio una bella Guardian Quest E nel frattempo vi dico qual era la mia idea La mia idea era percorrere, fare un PG, ok? E farlo cappare e percorrere, cioè portarlo fino al 65 Anche vabbè, se adesso il cap è 70, devo ancora capire bene come funziona il cap nuovo Comunque al 65, che sarebbe il vecchio cap Insieme registrando parecchia, parecchia roba E questa è l'unica cosa che posso fare, ragazzi Perché se no del resto Terra, a livello proprio di contenuto, cioè di guida Ripeto, ho finito Non potrei portare nient'altro Anche perché ho chiesto spesso nei commenti Che cosa volete vedere? Non mi avete risposto Cioè le vostre risposte sono state Bu, vedi tu, belli, io adoro Ma se non sapete nemmeno voi cosa guardare Cosa vorreste guardare? Intanto ci facciamo questa Guardian Quest Cioè c'è un boss così, anche per inaugurare il ritorno su Terra in caso Ma se io non ricevo molti commenti positivi Nel senso, sì Ed, fanno un PG da capo Un PG che magari non l'abbia fatto, non l'abbia cappato Almeno sai, ripercorriamo i dungeon insieme Vediamo i dungeon vecchi Le quest, che cosa che io non faccio Come livelli, come gestisci Insomma, tutto il gioco Si può fare Ma devo ricevere, ripeto, tanti commenti positivi Tanti like, perché se no la serie su un personaggio tutela Non mi conviene farla Ok, adesso farò un po' di silenzio Perché devo fare chiaramente il boss Non che sia particolarmente difficile Perché poi chiaramente adesso lo conosco A memoria Ma per il semplice fatto che Non riesco a fare due cose contemporaneamente Come avete visto È entrato subito in rage, tra l'altro Il simpaticone Subito in rage Va bene Va bene Fai il simpatico Non taglio nulla, credo Di questa boss fight Vamola Fatta bene Sono volato un miliardi di persone Non sbaglio Dai Di girare Vorco due Le mortaggi tua Schivare Ma si, schivare Sto cavolo Ma ha preso comunque Schivare E mi faccio pigliare Genio Finta morte Schivare È rage Si vede che non mi ricordo più Come si fa la rotation Credo che si veda Maledizione Quanto hanno ancora 19 bar E siamo praticamente all'inizio Entra to rage Entra to rage Occhio Giusto un po' male al rage Però va bene Dai comunque Nooo M'ha preso M'ha preso Sono estordimento Occhio Pinta morte Precopriamo vita Bene Occhio Vai Gira le spalle Gira le spalle No eh Rage Mi ha preso Mi ha preso No Dov'hai Maledetto Bene Bene Pinta morte Bene Bene Pinta morte Ragazzi Ragazzi quando faccio finta Chiaramente di morire Sembra che prendi Oh Non riesco a parlare Ehm Ho raggiunto la freccia Ehm Ho raggiunto la freccia a cavolo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non ti girare Di mortacci Tu ha attirato il tempo Ehm Ehm Finito il tempo Quanti voi l'ho preso 8 Ma va a cagare Che troviamo Due rubini Ehm Ma boh Andiamo a vendere un po' di roba Questo chiaramente Era un video zero Dove semplicemente Ragazzi Vi parlavo di questo progetto Sta a voi Sta a voi Dirmi Sì Edvice Come ripeto Scusatemi Se magari Insomma Ho parlato un po' poco In questo video Ma era semplicemente Un ritorno Nel senso Ragazzi Volete Tela L'unica cosa che posso fare E prendere un pg E sparlo con voi Fare dungeon principali Magari Mi sa tutte le volte Che le farmo Ma farmi per la prima volta Ogni dungeon con voi Dall'1 Al 75 Se ci state Benissimo Fatemelo sapere Con tantissimi like Con tantissimi commenti Con scritto Sì Anche semplicemente Sì Fallo Io vi ringrazio per la views Edvice Vi saluta Comunque il video Dove regalo Un milione di gold È ancora disponibile Deve raggiungere I like Ve lo lascio comunque A fine video A fine di questo video Mi raccomando In tanti Se volete Tera Questa serie Fatemelo sapere Menate sul tasto like Menate Sulla tastiera Commentata E se Io vi ringrazio per la views Edvice Vi saluta E noi ci becchiamo Alla prossima Ciao